Avevamo annunciato appunto una stagione di quattro date per il 2021 che si concluderà con dicembre, in questi giorni il successo straordinario di Christicchi in attesa di Eugenio Allegri con 900 per chiudere il 2021 e poi una stagione 2022 che in realtà è una stagione diciamo inverno-primavera 2022 sperando poi di tornare tranquillamente al Teatro Rossini per una stagione compiuta 22-23 ma diciamo una stagione che prende vita da gennaio a maggio con sei appuntamenti, sei grandissimi spettacoli con anche una novità importante ovvero spettacoli dal martedì alla domenica quindi sei spettacoli, sei recite, un dato veramente importante quindi 3.000 posti a disposizione e sei appuntamenti, sei recite, sei sguardi diversi al Teatro Italiano iniziamo e chiudiamo con due omaggi ai classici ci piace questo presente ricordato in qualche modo che cerca in questa incertezza del presente qualche riferimento così come fa Emilio Solfrizzi nel suo Malato Immaginario l'ultimo grande testo di Molière con la regia di Guglielmo Ferro e così come fa, devo dire, con una straordinaria capacità inventiva di utilizzo dei linguaggi teatrali Ferdinando Bruni nelle Dipore che chiude la stagione che si avvale anche di fantastici costumi di Antonio Marras che sono davvero parte della drammaturgia del testo e in mezzo a tante storie, tanto presente, devo dire, dopo questo presente ricordato invece tanto presente, giusto alla fine del mondo uno spettacolo che ci ha molto colpito e abbiamo voluto fortemente a Pesaro perché racconta vicende di una famiglia che assomiglia in molti casi anche alla nostra con una grande Anna Bonaiuto nel ruolo appunto della mamma di questa grande famiglia un bellissimo approdo a Pesaro è quello del Silenzio Grande che vede la coppiata di Maurizio De Giovanni e Alessandro Gasman scrittura e regia, la coppia che ha dato anche vita al grande successo dei Bastardi di Pisto Falcone in questo caso appunto torna anche da quella serie il protagonista Massimiliano Gallo con Stefania Rocca coprotagonista e un pesarese devo dire che in un bellissimo ruolo il figlio è interpretato da Jacopo Sorbini quindi siamo contenti di riportare un talento di Pesaro a casa desterà sicuramente curiosità la presenza di un nome come Martina Colombari che aveva incuriosito e poi invece molto convinto quando lo spettacolo è andato in scena abbiamo visto a Milano con grande soddisfazione Montagne Russe e il suo esordio commedia francese di grande intelligenza, di grande fascino che attraversa appunto come una montagna russa le possibilità della vita ultimi ma non ultimi naturalmente due presenze di grande fascino e di grande storia, di tradizione come Isa Danieli e Giuliana De Sio le signorine come dice il titolo dello spettacolo che ospitiamo devo dire l'occasione di vedere attraverso divertimento e tanta commozione l'arte del teatro, l'arte della recitazione distillata come davvero capita raramente quindi una bella avventura da vivere integralmente in questo spazio come diceva giustamente l'assessore Vimini che sta rivelando davvero una grande capacità di concentrare le emozioni e farle arrivare dirette in platea grazie a tutti